Nuovi specialisti a tempo per ospedali e distretti in arrivo anche a sud di Salerno, ma non a Sapri. L'ASL ha pubblicato anche quest'anno l'avviso per l'affidamento degli incarichi relativi al primo trimestre 2019, individuando il fabbisogno e le scelte operate per ogni struttura sanitaria che nel salernitano necessita di organico e di prestazioni. Si tratta di una settantina di incarichi distribuiti sul territorio, quasi 40 negli ospedali e circa 30 nei distretti sanitari. A restare a bocca asciutta sono proprio l'ospedale di Sapri e il distretto Sapri-Camerota, che continuano a vedersi relegati in un ruolo marginale senza che vengano riconosciuti e soprattutto risolti i bisogni di personale. Andando a guardare nel dettaglio, buone nuove arrivano per gli ospedali di Polla e Vallo. A Luigi Curto sono stati avviati i colloqui per l'assunzione a tempo determinato per tre mesi di due cardiologi, per sei mesi di due specialisti di chirurgia generale in grado di assicurare attività di endoscopia chirurgica e per tre mesi di uno torino laringoiatra e di un pediatra. Al San Luca invece verrà assegnato uno psichiatra per la durata di sei mesi. Ben quattro i medici in arrivo per l'ospedale di Oliveto Citra, sei ad Eboli e due a Rocca d'Aspide. Per ciò che riguarda i distretti, quello di Sala Consilina vedrà arrivare un cardiologo a sei ore settimanali al poliambulatorio di Teggiano, un altro a cinque ore presso il poliambulatorio di Sant'Arsenio, due neuropsichiatri infantili per il materno infantile di Sala e un oculista per il poliambulatorio di Sant'Arsenio. Il distretto di Vallo invece riceverà uno torino per i poliambulatori di Agropoli e Santa Maria Castellabate, un radiologo per il poliambulatorio vallese, mentre la salute mentale di Vallo potrà contare sul nuovo psichiatra per sei mesi. Niente da fare, anche per questa occasione, per ospedale distretto di Sapri, che dovranno aspettare il prossimo turno. A fine aprile si svolgeranno i colloqui con i professionisti che dovranno ricoprire gli incarichi, poi verrà stilata la graduatoria da cui attingere.